Ciao, oggi faremo un video bellissimo, una staffetta in verticale alla trave. A me piacevano le squadre di prima o le volete cambiare? Ok, allora la squadra di Marti, che è Marti di? Già di Ale. Già di Ale contro la squadra di Emma. Letizia e Arianna. E Arianna, va bene. Mi dite chi parte per prima e poi mi fate vedere se volete provare. Cioè mi dite chi vuole provare. Ari, grazie. Ok, qualcuno vuole fare la prova verticale cammino fino in fondo? Facciamo un bel segnetto così tutti partono allo stesso punto? Cosa? Ah, io vedo, provo. Sì. Ok, quindi verticale cammino fino in fondo, lì dovete arrivare con la schiena, quindi verticale mi slaio sull'arancione. Ok, chi sbaglia riscende e risale esattamente dove ha le mani, ok? Non è che vi allungate più in avanti. Tutto chiaro? Avete capito? Ancora più avanti, dai. Ok, lì va benissimo. Sì. Sì, ok? Perfetto. Se si scende si sale esattamente dove hai lasciato le mani. Tutto chiaro? Mi date un segnale di vita? Sì. Ok. Brava. Cosa ha fatto? Ha messo un dito sulla mani e ogni passo ha messo... Non ha lasciato il segno. Sei tu la prima o provi? No, sono la prima. Sei la prima. Ok. Allora, quando vuoi Marti? Marti, guarda! Mette questi miei piccolini. Dai, dai, dai. La brava. Dai, dai Marti! Dai, dai Marti! Dai, dai Marti! Dai, dai Marti! Puttati! Non capire! Vai, vai, vai! Brava! Ok. Parte Ale! Sì, tenura! Mi spalla sotto le mani. Dai, dai, dai! Brava, la segura! Ok. Difficile fare questa verticale se state molle. State più in tenuta che potete. Dai, 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 dai! Dai, 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 dai! Dai, 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 dai! Ah, già di feroce! Va bene! Ma poi con le calze? Seconda squadra, quanto hanno fatto? Un minuto e quindici. Un minuto e quindici. Pronta la squadra di Emma? Pronta la squadra di Emma? Vai, 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 bravissima! Brava! 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 Ricolissimo! Ricolissimo! Bravissima! Bravissima! Buon fine! Lancia via! Brava! Dai, Redi! Dai, Redi! Dura, dura, dura! Finti sulle mani! Finti sulle mani! Finti sulle mani! Eh, ma torna indietro! Eh, ma torna indietro! Ok! 44 secondi! Seconda manche! Allora, dai ragazzi, eh! Forza! Finti sulle mani! Passi prima! Brava! Brava! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! No! Vai prima in verticale! Brava! Mi sono stile! Ok! Non partire avanti con le mani! Lasciale lì! Ok! Vai, Ale! In tenuta, Ale! Ale, in tenuta i passi più piccoli! Dai, dai, dai! Dai, brava! Brava! Tenuta, passe piccoli! Dai, 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 dai! Brava! Vai! Non andare avanti! No! Alessia, torna indietro! Veloce! Mani! Via! A extra giuda! Le parole! The parole! Allora! Bravo, dai! Vai, vai! un minuto e zero quattro pronte dai dai Ari che l'hai fatto prima dai brava 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 ok dai Letty sta in tenuta non andare avanti non andare avanti con le mani bravissima non ti girare non ti girare vai perché abbiamo detto dritta no quant'è un minuto e zero due un minuto e zero due però sono stati un po' baroni questi qua vince la squadra di Emma e vabbè dai la prossima volta Già di tranquilla speriamo che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tanti like e ricordatevi di attivare la campanella così non perdervi tutti i nostri nuovi video ciao Già lo stai facendo? non lo so e la prossima volta lo facciamo laterale ciao